Allora, voi non avete idea da quanto tempo è che devo registrare questo video di Clash Royale Ma non è vero, ma non è Clash Royale di Fortnite Acuna matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Cicciocamer89 Regà, non ci sto capendo più niente, in questo periodo sono di una stanchezza incredibile Tra casa, lavoro, eccetera, eccetera, eccetera Regà, codice creatore Cicciocamer89 Se mi volete supportare su Fortnite, mi raccomando, grazie mille davvero A chi ancora shoppa su Fortnite con il mio codice creatore Diciamo che la season ci può stare, la season ci può stare un po' particolare Andiamola a vedere meglio, perché il primo giorno che l'ho registrato, regà, c'era Tifio Paragaturi sulle spalle, e let's go Io, il primo giorno della season di Fortnite, della stagione 8 Io ho detto subito, regà, occhio, hanno potenziato tantissimo le armi da distanza E il fucile a leva è diventato rotto No, 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 no E infine, eh, c'ho ragione io Quindi ricordatevi, gli scontri con l'M4, con lo SCAR, con il Vampa Con il BR, ragazzi, sono una roba incredibili E, secondo me, in questo momento Il nonno è meno forte del pompa a leva, secondo me Ok, hanno messo una cassa qui Ho sparato giusto per fare un po' di casino Va bene Non so dove sono Sarà un po' Eh, questo è bravo Bravo sì Ma si era dimenticato della finestra Della finestra Per il resto Era bravo Però purtroppo Ma non era blu Io avevo visto l'arma blu Ma pensa un po' Ma pensa Avevo visto l'arma blu, ragazzi Va bene Qui c'è il cubo Non vedo altri, in realtà, eh Vabbè Raga, ho buttato il pompa del nonno Per prendermi leva Ripeto, per me È più forte In questo momento Poi magari lo cambiano, eh Allora La gente sta là sopra Io ce posso pure provare C'avrei anche una jump Ma Vi direi anche di no Per vincere questa partita Non mi dovrei proprio intromettere Ma tanto Siamo in 55 Siamo Lay ground L'ho preso Ok Un po' Potrei anche cadere, eh E non so se capite che I miei colpi Non sono minimamente entrati Per il resto Questo mi sta Pia per culo Vabbè E questo mi per culo E pia me per culo, ma Pia me per culo, ma Che bravo che sei Balla, balla Boh A me non mi entrava un colpo A quello Infatti ne fregava niente Boh Tanto io Va Faccio rivedere Sta storia Ma Sicuramente La conoscete Ok Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Non so se avete visto I colpi di lag Comunque vedete Io non è che gioco Per vincere Perché se no adesso Io stavo lutando Perché se no adesso Io stavo stralutando Invece non ho niente Cioè io faccio un build fight Sono morto Ok C'è un airdrop La davanti Che io vorrei andare a prendere Però è arrivato qualcuno E credo che tutto Somma Mamma mia Quindi c'ho uno Grandissimo L'airdrop ancora non c'è C'ho due cecchini dietro Uno normale E uno c'ha quell'altro Questo se prende l'airdrop C'è sua Non c'ho Scildini C'è quelli grandi Scildoni Non ce li ho Regà state vedendo Quanto ho shotta Sì Ma l'importante è che Voi vediate Quanto ho shotta Regà Perché con due colpi di Di qualsiasi cosa Mi conviene fare Così E poi Andarmene qua Anche perché questa Tanto è gente che Vedi Questa è gente che Tra iarda Regà Mi avrà sentito Ah si sta curando Regà O aspetto qui dentro E aspetto che arriva Io non so minimamente Che cosa ha questo Ragazzi io non so minimamente Che m***a ha quello Va bene Scusami se esistiamo anche noi Perché io non so Che arma sia Posso essere sicuramente Un grandito Così Non gli ho fatto Praticamente Ok E stavo a dire Non gli ho fatto Praticamente niente Cheat Esplosione Mega galattica E lui che mi bestemmi addosso Ah forse è quest'arma qua Roba d'oro Ma cos'è sta roba Per l'amor di dio P90 Minchia D'oro No Si è leggenda Ve lo prendo Ma che cos'è Sono contento Sono molto molto contento P90 P90 è molto forte Eh Oddio P90 è molto molto forte Allora Quest'arma Mi fa veramente Defecare Ve lo posso dire Con una grande tranquillità Da non prenderla Mai Perché Non si jumpa bene Non si fa niente Regà Ok No Quella regà Veramente Lasciatela Perché Vi cambia completamente Il metodo di gioco È orribile Non mi piace P90 è forte Ma non fortissimo Magari l'hanno un po' Baffato Ne fenerfato Scusatemi Non ho più jump Ciò cure Sì Probabilmente Uno è morto lì Probabilmente Eh Probabilmente Sì Vabbè Va bene Non capisco Perché uno Non dovrebbe portare Nell'uno E nell'altro E anche Questi stanno Incazzati neri Regà Io ve lo Ve lo Ve lo Hai Capito Sì Non mi Non mi Non mi Corre E mi Cammina A me Fa niente Regà Ma che Ve lo Sì Fai 90 Regà Non Purtroppo Sulla base Della mia Esperienza Vi dico Anche No Lancia Ragazzi Oiaiaiai Aiaiai Mamma mia C'è chi gioca Di 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 M4 In questo momento Che veramente Se vuole Ti trita Completamente C'è questo sotto Che è un Breblayer Stavo cercando Di capire Le armi Che ci sono lì O quello che c'è lì Ma non vedo Non vedo niente Regà Mi ha praticamente Distrutto Io Non sono Assolutamente In grado Di giocare Contro questi Player Ma Lo sappiamo Tutti Non è che Posso essere bravo Quanto mi pare A scappare Ok A scappare Lasciatemi dire Che sono Veramente Forte Lo possiamo Anche ammettere Tutti Però Io non sono In grado Oggi Giocare Contro queste persone Penso che ci sono 15 persone In questo momento Pronte Ad uccidermi In questo momento Credo sono morto Raga questi Io Dico Uno sto laggando Non avete idea Non so se Il ping Riflette Oppure no Non credo che Rifletta proprio niente Il mio ping Mi dovrei Mi dovrei prendere Pesce di merda Non ho più Niente Da che Ero ricchissimo A che Sono diventato Poverissimo Poi vabbè Se stanno tutti A sparare A saperlo Mi faccio Cazzo Sarò le mie Rega Perché questa è gente Che tu aspetti Che fai Da Ma non tutti Vince Ce sa Pure io Vince Ma anche no Ma anche no Non è proprio Una lobby Che posso Portarmi a casa Ecco Non credo Io sta cosa Non la capisco Guarda ce l'avevo in mano Ma non ce l'avevo in mano Boh Rega Ma cosa voglio fare Lanciano un milione di cose Ma anche no Per dirvi eh Stanno nascosti Da tutti i pizzi Io questo Ve lo prendo Non c'è niente Per me Ragazzi Qua Io sto Raccattando le cose Da per terra Ma come faccio Una lobby De stronzi Potevo fargli anche HS Io pensavo Di averlo fatto Ma Ok Quindi praticamente Quello se l'è preso Col bot 45 anche a te Almeno State tutti Più tranquilli Ripeto Io comunque Avevo visto Diversamente Che quello là Era quello che mi volevo Uccidere prima Non so se ve lo ricordate Se magari mi finisce Di laggare Siamo rimasti in 5 Io purtroppo Sia la struttura Che ho fatto Va bene Io dovrei andermi a prendere Questa roba Mi dovrei andermi a prendere Questa roba Sì Probabilmente Era uno già preso Perché ci sono andato Uno già Oh però Aspetta Ho preso Un bel po' Di legno Grande zio Grande zio Io so che c'è uno Qua sotto Brutta storia Non lo vedo Non so dov'è Lui dovrebbe stare A queste parti Eh Ok E devo rimanere Buildato Devo rimanere Buildato qua Perché c'è questo Che c'è lanciarazzi E Siamo rimasti 4 Ma 1 2 3 E me ne manca 1 Non so minimamente Dove possa essere Beh Tu cerchi Di sminchiare le persone E gli altri Di sparano a te Che genio Ma a me ragazzi Mi lagga da impazzire Veramente Mi lagga un botto Regà Dai lo so che ho fatto Un cazzano E regà Ma qua tutti Ci avranno i flop E le cose Io non gli faccio niente Questa roba che c'ho Ah Vabbè Ho voluto troppo Sapete qual è il problema Di questo Pomp Mandata bene così Una partita molto 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 complicata Molto carina Peccato per il 100 Lento a sparare E pompa Poi lui aveva Iniziato prima di me A sparare Vabbè Io spero che il video Vi sia piaciuto Se fosse così Mi raccomando Pollicione in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi al prossimo Appuntamento A vostro cicciocamera89 Vi ricordo Tutti i miei refera link Anche quello di MyProtein Codici coupon cicciocamera89 Se volete comprare Degli snack Proteici Ciao raga Ciao